Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 C'è la musica di Natale! Lui che è appena uscito dal carcere che suona la chitarra e infine alla batteria c'è lui che viene dalle parti arabe perché c'ha la caffia in testa e secondo me sono io vorrei paragonare agli ali o le storie tese Non fare paragoni che non c'entra niente Aspetta, un po' il super giovine con la motoretta scurricchetta lì funziona Ma è brutto paragonare, giusto Giulia? Paragonare somiglia un po' a... No, ma no musicalmente esteticamente Il bello è quella, la banda della Maiella è la banda della Maiella No, perché si chiama la banda della Maiella Facciamoli sentire agli ascoltatori in maniera che si fanno un'opinione Sì, sono d'accordo Poi ci saranno le opinioni dei giurati Possiamo solo dire questo Hanno un nome particolare Il motivo, visto che non siete neanche di Roma Aspetta che non li sentiamo in diretta Sentiamo? Ehi Ecco, adesso sì No, il motivo vabbè Era una cosa che ci scherzavamo sopra una volta Tra noi amici Alla fine abbiamo scelto questo nome Visto che bisognava fare un gruppo comico Abbiamo deciso la banda della Maiella Li sentiamo Talenti della Notte Romana In diretta La banda della Maiella Applauso, grazie Radioradio by Night Roma Radioradio by Night Roma Presenta i nuovi talenti della Notte Romana Ovviamente tutto in diretta Partono dal vivo Mi piace perché tu sei grassa Sei un quintalo giù di lì Mi piace perché tu sei grossa Sei come una ballena Sì Mi piace perché tu sei bassa Che mi arrivi fino a qui Se tu sei grassa, grassa, grassa Sì Ma mi piace anche così Ha due belle cosce grasse Come due prosciutti Sì Ha due chiappe enormi e basse Che te portano quelli Trema tutto quando passi Sul sentiero tu così Perché sei grassa, grassa, grassa Sei bella ciciona Sei proprio buona E' una fortuna Che ci sei tu Bella ciciona Per me sei buona Così grassa e piena Come sei tu, boyfriend Grazie La banda della Maiella in diretta Radio Edit Naturalmente per dar spazio A tutti i finalisti Eccoli qua, insomma li abbiamo sentiti Vengono da Perugia Bella cicciona, pensa che l'altra volta L'hanno cantata, è rimasta impressa E' interessante come situazione Come impatto visivo poi sono unici Ti fomentano proprio Allora Valerius un commento rapido Con i due, diciamo così, referenti Insomma un referente di Roma Spazio Musica Allora Un'opinione, senza voto Tanto stanno votando Votano in gran segreto, io non sbircio, giuro Ancora non abbiamo votato Per cui Un'opinione, insomma un pensiero Cosa ne pensate? Beh originali sicuramente Belli carichi Belli carichi Perfetto Invece andiamo dall'altra parte Andiamo dall'altra sponda L'altra squadra Dalla PUM Positive Music School Sentiamo Oltre al look originale Devo dire Una performance convincente Sicuri sul palco E musicalmente validi Ci sono piaciuti Radio, radio, by night Roma 104.5 Perfetto 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 Perfetto